Via, sono Musco Fulvio, attore di teatro amatoriale. Come esperienze, a parte il teatro, anche esperienze cinematografiche, ho partecipato a certi film di piccoli ruoli, con registi come Monicelli, Massacurati, e di cui l'ultimo film che ha fatto, La sedia della fortuna, io ho partecipato. Ho fatto un videoclip anni fa, dieci anni fa, ecco, questo solo. Grazie a tutti.